ragazzi sto vloggando poco ma piove e si gela ma si gela veramente io vorrei sapere quanti gradi ci sono oggi perché batte la giornata di ieri poi piove quindi cartina in mano da una parte un brano e dall'altro la macchina fotografica capite che non so dove che bello questo ha trovato una castagna portano fortuna e togliamo il raffreddore cioè capite che non riesco castagna togliere il raffreddore dicono così guardate che bello qua mamma viene a vedere è stupendo guarda allora lì c'è la torre della televisione e poi c'è una cupola non so di cosa adesso vado e cerco di scoprire questa dovrebbe essere tutta la zona dei musei ovviamente non possiamo entrarci perché abbiamo poco tempo a disposizione mi piacerebbe tantissimo però in ogni museo ci si deve stare un pochettino e quindi preferisco guardare la città anche se sto gelando non so se riuscite a vedere l'ho bello ma chissà di inverno inverno qua com'è farà freddo però guardate che meraviglia adesso ci avviciniamo berlino la città delle gru è ancora tutta in costruzione praticamente guardate sei tutto un gantiere ma guarda anche di là i piedi una se ne conto una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici già sette dai wow che bello che forse più bello del rage tag vero io l'abbiamo visto il rage tag dopo se ci ripassiamo ve lo faccio vedere però questo è veramente più bello è stupendo dal video peccato che non rende imponente anche quello guardate è tutto troppo bello grazie a tutti qui dove andiamo? qui? per una messa quelle cose delle prime sembra oh mio dio almeno siamo un po' al caldo facciamo questo giretto sul fiume non so che fiume sia che ignoranza adesso mi informo e vi dico comunque è carino almeno siamo al caldo e adesso credo prenderemo qualcosa di caldo da bere perché sono l'ora e mezzo e quindi dovremmo anche mangiare però io non ho fame abbiamo fatto colazione pesante è veramente enorme è veramente enorme che bella buonissimo buonissimo poi è caldo quindi è buonissimo ancora di più guardate ragazzi questo è il rainstack peccato che si vede male perché il vetri c'è la pioggia forse così si vede meglio sopra c'è una cupola stupenda volevo salirci però bisognava prenotare online ok sto leggendo che quella struttura maestosa enorme era la Berliner Dome maestosa la chiesa neorinascimentale un tempo cappella reale luogo di culto luterano museo e auditorium non riesco a parlare sono troppo stanca di fianco invece quella struttura con tutte le piglie era l'Altes Museum fianco c'era il Neues Museum insomma quella che abbiamo visto prima era tutta la zona dei musei in cui purtroppo non possiamo entrare perché ci vorrebbe troppo tempo che non abbiamo io sono ancora qui dentro al battellino che ci sto facendo fare un bel giretto così ci riposiamo un attimino poi c'è il Bergan Museum ah il fiume che stiamo percorrendo è lo Sprea ecco qual era il fiume che non sapevo finalmente siamo usciti dal battello non ce la facevamo più perché sono un'ora a parlare in tedesco e non capivamo assolutamente niente quindi adesso siamo sotto se si sentirà qualcosa perché c'è un pezzino allucinante tra pioggia, macchine che spruzzano l'acqua va tutto molto bene siamo sotto alla torre della televisione ed è veramente altissima mi sembra sia 365 metri si potrebbe salire soltanto che con questa nebbia con questa pioggia non si vedrebbe niente quindi non saliremo eccola qui di là di là di là un cantiere unico a Berlino è un cantiere unico ragazzi non ho mai visto qualcosa di così grande non so se sono uscite vendono di tutto home, casa scarpe, vestiti solo che è troppo grosso non ho nemmeno voglia di girarlo ma è una cosa nel centro non ho mai visto qualcosa di così enorme queste scarpe sono bellissime 36 quelle che sono estive eh sì sono molto belle quelle scarpe perché sono sì ha un mega 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 outlet perché ci sono marchi commesse lì Michael Kors ma veramente mega tre piani pazzesco adesso stiamo per andare lì Alexa che è un centro commerciale perché non ci facciamo più di stare alla pioggia ieri abbiamo girato la città abbiamo già visto le cose belle oggi centro commerciale perché siamo distrutte Alexanderplatz è bella è bellissima andiamo avanti vediamo più là cosa c'è guarda che bella la stazione con scritto Alexanderplatz oltretutto qua non si riescono a distinguere i treni dalle metropolitane dai Puma sono tutti uguali tutti bellissimi però li abbiamo presi per arrivare dall'aeroporto fino vicino diciamo al nostro albergo Primark cioè mi sento male mi sto sentendo male subito lì subito proprio non credevo io credevo che Primark fosse distantissimo su internet c'era scritto quella distante Alexa è di là il supermercato è di là ci andiamo dopo prima Primark subito però non so damn damn c'è sempre Saturn vabbè ma questa piazza che cos'è mamma? è veramente troppo troppo bella immensa è fantastico è tutto fantastico campieri come al solito aaaaaaah Primark Primark ma perché qui i negozi sono così grossi che non posso guardare perché non ho tempo no vabbè ragazzi io muoio muoio io ragazzi credetemi che sono disorientata da quanto è grande questo posto ci sono tipo quattro piani ma immensi come fanno le persone a comprare qui? cioè sono veramente disorientate non riesco nemmeno a capire gli italiani comunque siamo proprio sfigati eh abbiamo delle cose minuscole a confronto questo è solo un negozio da noi neanche un supermercato un magazzino così grosso se qualcuno mi avesse detto che sarei uscita da Primark a mani vuote non l'avrei mai detto eppure è così perché è troppo grosso non riesco neanche a girarlo Siamo qui seduti nel centro commerciale in Alexanderplatz Alexa perché siamo un po' cotte adesso dobbiamo pensare che cosa fare perché non ho la forza di alzarmi perché da questa mattina alle 8 eh che giriamo come delle trottole per tutta Berlino sotto la pioggia col freddo polare praticamente però è tutto bellissimo sono veramente estasiata incredula da questa città è veramente pazzesca ragazzi proprio 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 bella la piazza che c'è qui a Alexanderplatz mi toglie il respiro da quanto è bella enorme pazzesco siamo in camera finalmente che stanche poi usciamo dopo per mangiare perché vogliamo trovare un posticino carino qui vicino adesso guardo sull'applicazione around me vediamo che cosa c'è qui intorno intanto ci siamo comprati dei donuts allora ve li faccio vedere perché sono troppo carini ce n'è uno semplice col cioccolato e tutte le codette o codine come si chiamano? codette? poi arriva la bomba sbam mamma mia assaggiamo è tutta al cioccolato la bomba è tutta completamente al cioccolato con l'esterno a cocco appena tornate da un geletto serale e da una buona mangiata italiana perché avevo voglia di qualcosa di italiano e quindi ci siamo mangiati una pasta e... ma abbiamo sbagliato? no scusate no credo di aver sbagliato il corrido io non ce lo faccio più e comunque stavo ragionando sul fatto che qui è tutto uno tutte le parole hanno Z-T-R-K-R è proprio una lingua dura infatti quando li sentiamo parlare mi era un po' l'ansia ieri avevamo una televisione tedesca cioè poi il telegiornale tedesco e così mi metteva un'ansia allucinante e anche l'inglese qui non si capisce bene perché noi sappiamo l'inglese però qui è difficile perché ovviamente parlano inglese un po' tedesco e quindi... eh? tedeschizzato si dice? si dice tedeschizzato o germanizzato? non lo so e quindi oggi tipo per dirci later l'età ma cosa avrà detto? quello che abbiamo capito dopo Summer Zammè ok va bene speciale 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 comunque tutto con la Z dentro bene dai siamo arrivati in camera e adesso nanna che domani un altro giorno